Grazie Patrizia perché con te si vivono sempre delle esperienze indimenticabili Ho lasciato andare le mie paure più grandi Ho imparato che sono forte A casa da questa esperienza mi porto tanta gioia, tanta leggerezza e il senso che si può andare oltre i propri limiti Abbiamo fatto oggi il terzo giorno, sembra che siamo quasi qua da dieci giorni Infatti grazie perché da quando ti ho incontrata sul mio cammino tante cose stanno cambiando e ti ringrazio tantissimo, infatti ti sto promuovendo Grazie mille perché la mia vita sta cambiando sempre di più e sempre meglio Anzi mi trovavo alle Canarie, ero già lì a fare un'altra cosa spirituale E sono venuta qua, ho preso l'aereo e sono arrivata qua Sono arrivata a tutti i costi Sento che dentro di me è partita una trasformazione E io sto scegliendo di avere il tempo di fare le cose che mi piacciono e che mi fanno stare bene Sono tante Adesso so dove voglio arrivare, cosa voglio fare E quindi non mi ferma più nessuno Volevo dire un grazie a Patrizia per tutto quello che ogni volta mi fa scoprire Perché riesci sempre a trovare il punto giusto su cui farti lavorare Questo avrà veramente un senso meraviglioso di trasformazione nella mia vita Io già lo sapevo nel momento in cui ho fatto il biglietto aereo Ho imparato a essere me stessa, ad aprirmi al mondo Un bagaglio che non ha presso incredibile Non ci stanno le emozioni da quanto grandi sono Mi porto a casa sicuramente la voglia di andare avanti anche quando incontro le difficoltà E quindi avere il coraggio di seguire quella che sono Quella che sono anche il mio sogno E quindi sicuramente di farmi conoscere a tutto il mondo senza paura Allora mi sento più leggera perché ho capito delle cose Innanzitutto che devo essere sempre più me stessa E mi porto a casa sicuramente una grande energia, un grande amore per me stessa Mi sento più aperta, mi sento meno giudicante, mi sento più consapevole Grazie a te la mia vita è cambiata già da tanto tempo E spero che tu possa aiutare altre persone a cambiare E ad essere felice, a vivere felice come sei riuscita a farlo con me E come sempre ringrazio anche il mio vicino che sta dietro alle quinte Che ha organizzato questo evento praticamente in maniera stupenda Ci ha fatto vivere delle esperienze fantastiche Quindi avevo dormito in un posto bellissimo Hanno fatto un ottimo lavoro Grazie Patti, grazie È stato magnifico incontrarti e conoscerti dal vivo I love you